Al di là di quello che è stato detto è solo ed esclusivamente una questione tecnica, in quanto oggi è stato votato su 645 votanti, 610 sì, 26 no e 9 estenuti. Cosa? Era la modifica al regolamento per quanto riguarda i privilegi e l'immunità dei parlamentari europei, che fino ad oggi, fino a questa mattina diciamo, era ad appannaggio esclusivamente delle procure nazionali o delle rappresentanze permanenti dei paesi. Adesso si dà la possibilità, e questo è il punto della votazione, come ho detto è stata votata positivamente, per dare la possibilità alla procura europea, la famosa EPPO per i reati finanziari, di poter chiedere agli uffici del Parlamento di poter avere le autorizzazioni a procedere. Quindi è solo un discorso di carattere esclusivamente tecnico. Vorrei però dire una cosa, noi innanzitutto siamo sempre garantisti, quindi assolutamente si sappia che alla fine la revoca dell'immunità spetta sempre al Parlamento, e questo sia chiaro, non è che è delegato qualcun altro, questo è importantissimo. Ma va detta anche un'altra cosa, che va benissimo modificare i regolamenti, va benissimo dare la possibilità anche al EPPO di poter richiedere. Però il punto fondamentale è sul fatto che poi alla fine ci devono essere delle persone elette al Parlamento europeo, diciamo dal punto di vista, diciamo, di integrità, chiamiamolo così, e non avere nessun sospetto di corruzione come purtroppo stiamo assistendo in questi giorni. Grazie.